La giunta di Pescara è al lavoro seppur ad organico ridotto, così il sindaco di Pescara Carlo Masci che nel giorno del primo consiglio comunale resta fiducioso. Il primo consiglio comunale è importantissimo perché ci sarà l'approvazione delle linee di mandato ma ci sarà anche una delibera fondamentale che è quella del recepimento della norma nazionale, del rottamazione delle cartelle esattoriali che riguardano il comune. Per questo è stata convocata una seduta di consiglio anche anticipandola rispetto a quella dell'8 luglio che era stata fissata. Sindaco, tornando alla giunta, resta un po' la distanza con la Lega. Quanto tempo si è preso lei e quanto tempo è disposta la Lega a dare? Oggi c'è la necessità di definire la quota di genere, c'è un confronto, un dibattito tra i partiti per inserire la quarta donna. Io ho dato ai partiti tutto il tempo necessario per ragionare perché è necessario che la giunta sia operativa e lo è sin da oggi proprio perché abbiamo una giunta a 5 che opera al 100% senza nessuna preclusione. Poi l'integrazione avverrà nel momento in cui i partiti avranno trovato l'intesa. Parlando di partiti, parlando di un altro partito, l'Udc ci sarà un assessore dell'Unione di Centro? Ma io l'ho detto e l'ho ripetuto. La coalizione che ha vinto le elezioni è formata da sei forze politiche, da sei componenti. C'è anche l'Udc e credo che l'Udc abbia diritto a partecipare. Non cambia la linea dell'Udc che nella riunione conclusasi la notte scorsa ha ribadito che l'assessore dovrà essere Massimiliano Pignoli. Questo per due motivi fondamentali, rivalutando e rivedendo ovviamente il documento della direzione. Perché io rappresento in realtà la periferia di Pescara. Voi sapete che io prendo marea di voti all'interno delle periferie, delle zone periferiche di Pescara e siccome all'interno del mandato del sindaco c'è un ampio risalto, si dà alle periferie, alla ripartenza delle periferie, c'è ovviamente disponibilità da parte mia, eventualmente il sindaco lo vorrà, di ricoprire questo ruolo. Grazie. Grazie. Grazie.